ciao a tutti ciao a tutte questo è il mio primo esercizio in sfida vi propongo gli affondi molto molto semplice si può fare in questo modo portando la gamba sinistra avanti facendo un posto avanti con la gamba sinistra con la gamba destra ritornando sempre in asse stessa cosa lo possiamo fare portando la gamba sinistra indietro ritornando sempre in asse gamba destra stessa cosa la possiamo fare facendo un posto avanti e portando le mani sui fianchi quindi mani sui fianchi e continuo l'esercizio possiamo aggiungere un'altra variante possiamo portare le braccia in alto quando facciamo l'affondo braccia in alto braccia in alto braccia in alto e braccia in alto ancora benissimo possiamo renderlo un pochino più accattivante difficile aggiungendo dei pesi in questo caso per esempio andiamo a lavorare con i bicipiti quindi con gli altri superiori insieme agli altri inferiori esercizio completo più interessante rispetto al corpo libero e possiamo continuare così almeno per 20 ripetizioni naturalmente per tutte quelle che non possono scendere troppo il ginocchio vi consiglio il nostro caro amico quello che ogni donna conosce bene il nostro bellissimo mocio e ci possiamo dare un aiutino in che modo possiamo fare un passo avanti con la gamba sinistra mantenendo il mocio a destra ve lo faccio rivedere con l'altra gamba perfetto i miei consigli sono quelli di respirare sempre e quelli di lavorare sempre con le stesse ripetizioni sia per l'emico arpo destro che l'emico arpo sinistro buon lavoro a tutte io resto a casa ciao ragazze